Siamo rimasti molto sorpresi non solo dall'esistenza di questo rapporto della USL numero 1, ma anche da chi l'ha commissionato e dalla sua divulgazione. Da questo rapporto noi apprendiamo singolarmente, ma poi a pensarci bene neanche troppo sorprendentemente, che le cose a piegarlo va tutto bene, non è successo niente. State tranquilli perché il numero di morti che c'è a piegarlo sono gli stessi di Città di Castello e quindi se a Città di Castello non c'è la centrale, significa che la centrale non è il responsabile dei malati e dei morti. Mi sembra una conclusione che come valore scientifico e soprattutto processuale, che sono le cose che a me interessano, è prossima allo zero. Quello che voglio dire è che queste indagini innanzitutto sarebbe stata una conclusione diversa, sarebbe stata un'autentica ambizione di colpa. Perché se io come USL ho il dovere e il compito di vigilare e prevenire e poi dico che in quel paesino di poche migliaia di abitanti c'è un'incidenza altissima di malati e di morti, cosa che noi, soltanto io, il collega Francesco Brozzi e pochi altri abbiamo raccolto più di 200 casi negli ultimi anni tra malati e morti, mentre lì si parla soltanto addirittura di qualche unità per quanto riguarda i morti, di poche decine per quanto riguarda i malati. Quindi credo di per sé non è attendibile, ma non è attendibile per un'altra ragione. Se io USL ho il compito di vigilare e di prevenire, come stavo dicendo prima, e poi dico che c'è un'altra incidenza di malati e di morti, vuol dire che io non ho né vigilato e né prevenuto. Quindi ritengo che una conclusione diversa sarebbe stata, a mio giudizio, sorprendente. Quindi non me l'aspettavo. Mi suona particolarmente anomala la tempistica di tutta questa cosa, perché io non dubito che a questo punto ci siano in atto delle manovre, lo dico in maniera, almeno assumo la responsabilità, per dire che qui va tutto bene, qui non è successo niente, l'inchiesta non serve a niente, lasciate perdere e che quindi qui va tutto bene, perché i morti di Piegaro sono gli stessi di Ficulle e quindi non è successo niente. Questo è assolutamente, mi non ridisce questo pensiero e questo tentativo, perché ho il sospetto che ci sia un tentativo di affossare il fatto, affossare i morti, affossarli due volte e soprattutto affossare l'inchiesta. Ecco, io che ho l'onore di rappresentare circa 250 famiglie che mi hanno chiesto di scoprire se le loro malattie e i loro morti sono causati dall'attività della centrale, io ho il compito di andare fino in fondo e di scoprire la verità. Per scoprire la verità non mi basta un rapportino di 5 o 6 paginette fatto da un'autorità che io non ritengo indipendente, ma mi serve un rapporto fatto da qualcuno diverso, spero di una regione diversa, che mi deve certificare e questo noi lo chiederemo alla Procura della Repubblica, se la mia malattia che abito a Piegaro o abitato a Piegaro o a Panicale da 50 anni è dovuta all'attività della centrale. È una cosa molto semplice, non c'è bisogno di andare a vedere il registro di tumori e le schede ISTAT della morte, perché è chiaro, secondo me sono poco attendibili, perché se io ho una certa malattia ma poi muoio per una complicazione polmonare, probabilmente sul certificato di morte c'è scritto che sono morto di polmonite, quindi non ha alcun valore scientifico e soprattutto non ha alcun valore processuale, quindi questo tentativo che piomba nel mezzo di un'inchiesta mentre stanno vendendo la centrale, ci sono tanti giochini che si stanno facendo che non mi piacciono per niente e quindi io ho il dovere di andare fino in fondo per scoprire.